Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati, benvenuti al Wejil, in particolare a Wejil to Read. Allora, una piccola breve introduzione, questo è il primo incontro col quale diamo l'avvio a una tre giorni di libri e musica. Questo è un incontro, è una rassegna che ho ideato, che è stata supportata dalla Regione Lazio e da Lazio Crea, che non esisterebbe anche grazie all'associazione Arte 2O. E in particolare volevo iniziare con, di solito è la fine, con i ringraziamenti a delle persone specifiche senza le quali non saremmo qui, ovvero Elisabetta Meluzzi, Lucia Bianco, Maria Roberto e Alessandra Polidori. Applauso, chiedo perché sono anche presenti qui in sala, tutti questi colori che accompagneranno i nostri incontri sono stati disegnati da Gubrin e la grafica è stata realizzata da Sabrina Taddei. Dico questi nomi perché è molto importante e lo scopriremo anche in questi tre giorni quando si parla di libri, la musica, ma anche il disegno, anche l'immagine. Io partirei con il nostro sottofondo e tappeto sonoro per chiamare i nostri primi ospiti con i quali iniziamo questo viaggio a bordo dei libri a suon di musica, Fosca Donati e Fabio Canino. E' un peccato interrompere la Duran. Allora io vi lascio la parola, vi lascio alla presentazione, vi ringrazio per aver accettato questo invito. Ci saranno altre due persone che interverranno musicalmente, per ora le lasciamo un po', non annunciamo ancora perché poi Fabio sarà il tuo, sarai tu da Bravo Radiofonico a lanciare il momento in cui ci sarà anche la musica. Vorrei sapere quale sarà il momento? Il momento e i nomi, la Bravo Radiofonico non so niente. Perché le annuncio poi dopo io. Perché ho sempre tutto scritto io. Adesso per ora le lasciamo in una cortina di fumo. Ah un po' misteriosi. Beatrice Binacci e Davide Belliccioni, ma lo diciamo tanto passo dopo a dirlo. Va bene, va bene. A voi! Buonasera a tutte e tutti, benvenuti e diamo il benvenuto alla nostra Fosca. Prima volta... A Roma? Non, a Roma penso di no. No, a Roma no, effettivamente no. Però in chiave di autrice di libro cambia. Cavoli, totalmente? Devi essere più seria, più problematica, devi guardare la gente un po'. Ah, posso essere problematica? Sì, sì, sì. Devi guardare la gente un po' con aria schifata perché gli autori hanno sempre questo atteggiamento, quest'attitudine un po' della serie io sono io e tu che cazzo sei. E no, a parte gli scherzi, Fosca ha scritto un libro, ma prima del libro c'è una presentazione che io lascerei proprio a te. Raccontaci Fosca come siamo arrivati. Tu, vabbè, io e lei lavoriamo insieme a Radio Capital nello stesso programma Miracolati con la Laura, abbiamo anche Veronica davanti a noi un gruppo e ci siamo conosciuti proprio quanto è, un anno? Sì, l'estate scorsa. L'estate scorsa. Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a fare questo programma su Radio Capital alle nove di mattina, devo fare anche pubblicità. E poi via via lei ci ha raccontato, aveva scritto questo libro, da dove veniva questo libro? da un podcast. Raccontaci un po'. Sì, allora, intanto grazie per l'invito e per l'ospitalità. Volevo dire che questo posto è bellissimo. Sono rimasta molto impressionata, è veramente stupendo. e grazie a Fabio. Sì, sicuro. Allora, come è nato? È nato tutto completamente a caso, nel senso che io lavoro la mattina su Radio Capital e a mezzogiorno con Alessandro su DJ, su Alessandro Cattilan e a un certo punto stavamo cercando delle idee per delle rubriche nuove e io ho proposto di invitare gli ascoltatori a leggerci pagine dei loro vecchi diari, facendo da cavia, nel senso che è un po' come si fa in radio leggendo i messaggi, lanci il tema, leggi il messaggio dell'ascoltatore e dai il là agli altri per dire la loro. Quindi l'idea è stata un po' chiediamo agli ascoltatori di leggerci, di riaprire i loro vecchi diari, i loro vecchi ricordi. Parto io, leggo una pagina di una mia smemo, io ho una collezione gigante di smemoranda perché da ragazzina scrivevo tantissimo e do il là con questa prima pagina e poi partiamo. Siamo partiti con questa prima pagina ed è andata in una maniera completamente inaspettata nel senso che il feedback è stato veramente bello e quindi abbiamo fatto una intera stagione con questa sorta di rubrichetta al venerdì in cui ogni venerdì io leggevo una pagina con l'aiuto anche di una parte di sound design e di un po' degli aggiustamenti editoriali con dita, era un po' con dita. E da lì mi è stato proposto di farne un podcast, nel frattempo vedendo un po' che queste letture piacevano io mi ero già trascritta tutti i miei diari, ve li ero spediti in SIAE che ho detto poi vediamo cosa succede e quindi in realtà un pochino l'idea del libro a me è venuta quasi subito, nel senso che rileggendoli mi ero già resa conto che ci fosse una sorta di storia dentro, cioè rileggendoli ho visto che c'era un inizio, una trama, un finale, chi lo sa, comunque era una cosa che già poteva leggere e poteva leggere come storia da leggere. Quindi in qualche modo l'ho salvata digitalizzandola, abbiamo cercato un po' uno scheletro per creare il podcast e dopo la prima stagione del podcast abbiamo stampato fondamentalmente il libro. Attenzione ma questa prima stagione del podcast è andata talmente bene che come è arrivato nella classifica dei podcast? Eh, sai che non lo so. Terzo tra tutti i podcast in generale? Davvero? Ma non lo sapevi? No. Ma te lo dico io, caramba che sorpresa, è un podcast molto seguito perché effettivamente tutti noi, chi più chi meno, ha avuto a che fare con un diario. Io come tutte le cose che faccio nella vita iniziai una pagina e non l'ho mai più fatto perché io non sono assolutamente, sono pigro in tutto e quindi anche nei diari. Però conosco persone che i diari li hanno usati come, diciamo, alternativa all'analisi perché all'epoca ancora l'analisi la facevano quelli matti, venivano detti matti e costava tanto e quindi il diario in qualche modo era l'amico segreto a cui potevi confidare qualunque cosa che non ti giudicava. Tanto è vero che nei tuoi diari che vengono rappresentati, qui ci sono due anni delle tue scuole. Sì, questi sono due anni scolastici interi di una fase abbastanza importante nella vita di un adolescente, nel senso che si passa dai 15 ai 17 anni, tra il 96 e il 98 dove c'è un cambiamento abbastanza importante della persona. Il titolo lo dice, c'era una volta ed era la prima e non si parla della marcia in macchina ovviamente. Non solo. Non solo, non solo di quella. E devo dire che questo leggere il tuo libro è molto interessante perché qualunque età tu abbia, da qualunque città tu arrivi, riesci a ritrovarci delle cose che anche tu hai vissuto e ci sono dei momenti classici, le prime uscite con gli amici, le prime uscite nelle discoteche, le prime uscite di notte quando ti lasciavano andare perché c'era un periodo in cui devi rientrare a quell'ora, la scuola, il rapporto con la scuola, il rapporto dei genitori. E ci sono due punti fondamentali, io in radio l'altro giorno sono detto un romanzo di formazione citando Verlaine perché effettivamente è un romanzo di formazione. Per le donne è il cambiamento anche del trucco, cioè passare dal trucco della ragazzina a un trucco più da donna, cioè una ragazza che è sempre più sveglia e intelligente di un uomo fa e per gli uomini è il taglio definitivo dei capelli e all'epoca il servizio militare, cioè c'era proprio un cambio totale e capita proprio ai tuoi amici che erano tutti più grandi di te all'interno di questi due anni, quindi il romanzo è la storia di Fosca in questi due anni che ci racconta quello che faceva e raccontandoci quello che faceva ci racconta quello che facevamo tutti, ognuno nella sua città, ognuno con i suoi amici, ognuno con le sue turbe e le sue insicurezze soprattutto, facevamo tutti la stessa cosa, quindi via via si va avanti, tu cerchi di capire lei come ha reagito alle cose che anche tu hai vissuto, vediamo un po' lei come ha fatto, vediamo un po' come si faceva al nord rispetto a chi vive a Roma o al sud, ovunque e questo è molto interessante perché rende il libro universale, un po' per tutti, quando tu l'hai scritto hai dovuto ammorbidire, tagliare, specificare delle cose per renderlo così universale o hai lasciato tutto come era sulla smemoranda? Allora io i due grandi interventi che ho fatto sono in realtà secondo me minimi, nel senso che mi sono limitata a cambiare ovviamente i nomi delle persone, nel senso che non volevo che nessuno mi facesse causa, nel senso che al di là, a parte i miei due fratelli gli altri nomi sono tutti fittizi, perché poi lo scopo non era raccontare la vita degli altri, nel senso che ognuno ha diritto poi anche alla sua privacy, quindi il grande cambiamento è stato questo e magari fare anche in modo che le persone potessero dire ma questo in effetti potrei essere io, intendo le persone coinvolte, sì ok potrei essere io però poi succede sempre qualcosa per cui ah no non potrei essere io, cioè ho cambiato dei piccoli dettagli per non svelare magari anche i segreti di altre persone che non volevano fossero raccontati. L'altra cosa su cui sono intervenuta è l'aspetto minuzioso del dettaglio, dell'aspetto anche della scoperta del corpo proprio e dell'altro, nel senso che io l'unica cosa che non volevo è che questo fosse un libro pruriginoso, ci tenevo tantissimo perché… Cento colpi di spazzola. Sì, nel senso che non sono io, non mi avrebbe rispecchiato e non mi appartiene, seppure nei miei diari ero molto dettagliata nelle descrizioni, ma lo ero perché era un po' romaniacale nel raccontare e un po' essendo tutto nuovo mi piaceva dettagliare. Nel raccontarlo ho pensato che tutto sommato fosse superfluo, nel senso che non era quello che poi avrebbe dato la personalità al racconto. Quindi fondamentalmente i grandi interventi sono questi. Il resto è tutto quello che c'è scritto sulle tue vere smemorande. Sì. Allora, hai citato i tuoi fratelli Federico e Brando che mi ha colpito molto il fatto che una ragazza, adolescente e donna, fosse molto amica e complice di due uomini più grandi di lei che in qualche modo di solito sono invece quelli che… i primi censori della vita della sorella. Già quella è una grande differenza? Allora, io ho avuto la fortuna di avere una grande complicità con i miei fratelli. In realtà io sono in mezzo perché ho… Brando è più piccolo. Fede di sei anni più grande e Brando di tre anni più piccolo. Quindi diciamo che a un certo punto ci siamo ritrovati a fare grande squadra di fronte a delle difficoltà familiari che sono quelle che possono capitare, nel senso che a un certo punto i miei genitori hanno smesso di funzionare come coppia. Devo dire, io non ho mai visto i miei genitori litigare, lanciarsi i piatti, io di questo sono molto grata, nel senso che hanno gestito in modo molto intelligente le difficoltà. però i figli le avvertono le difficoltà, anche se non vengono esplicitate in modo grave. Quindi di fronte a questo noi ci siamo molto uniti e io mi sento fortunatissima da questo punto di vista perché ci siamo voluti bene, ci siamo alleati tantissimo, ma non contro i nostri genitori e noi ci siamo alleati tantissimo nel cercare di stare bene, di trovare anche uno spazio di serenità. Noi ci siamo divertiti un sacco perché questa discoteca di cui io parlo tanto in questo... Ora ci arriviamo a questo Nautilus. In questo libro io l'ho scoperta proprio grazie al mio fratello maggiore che era un metallaro appassionato di metal e rock, quindi io come tutti i fratelli e le sorelle più piccole guardano a chi c'è prima in modo aspirazionale. Aspirazione. Sì. E quindi ecco, devo dire, continuiamo a volerci bene, fortunatamente adesso loro sono... in realtà sembrano tutti e due più grandi di me, anche quello più piccolo perché oggettivamente sono tutti e due, insomma, accasati con prole. Ancora metallari ancora? No, a vederli magari non lo diresti, però sì, comunque loro hanno... Un'anima metallara? Sì, poi suonano, hanno sempre suonato, quindi... La musica di... Ecco, la domanda che volevo fare sui fratelli. Quando hanno letto il libro, tu avevi un pudore, un imbarazzo, anche se hai tolto, hai detto le cose che magari potevano... però ci sono anche delle cose che non hanno a che fare col sesso e che hanno a che fare con loro, che magari ti potevano, non imbarazzare, però una sorta di pudicizia, c'è? Questo è un altro tema, nel senso che in quegli anni noi eravamo molto complici, cioè non credo che ci sia niente di quello che c'è scritto qua dentro che loro non sapessero già, perché parlavamo proprio tanto, cioè per me il dialogo è sempre stato importante, io se penso alle amicizie più strette che ho da sempre, a tutti i rapporti più profondi che ho, sono rapporti in cui ci si conosce profondamente e con i miei fratelli, probabilmente l'ho imparato con loro questo, perché adesso per esempio il mio fratello Federico settimana scorsa mi ha mandato un messaggio dicendo, no ma io non... stanotte sono andato a letto le tre, perché sto leggendo il libro, mi ha appassionato tantissimo, ma questo non me lo ricordavo, quello non me lo ricordavo, ma sono magari piccoli dettagli legati per esempio a racconti sui suoi amici e quindi anche questo risponde alla tua domanda, no? Nel senso che sono dettagli di storie... Non sorprese, non ci sono sorprese. E arriviamo al Nautilus, allora molto di questo libro gira intorno alla sua autodeterminazione, chiamerei, del fatto che finalmente anche lei poteva uscire e andare in discoteche, questo Nautilus, che era un po' i social di oggi, cioè il Nautilus era dove ci si incontrava, c'era una fermata, un pit stop prima al circolino, dove cominciavano a bere un po', per poi avere il coraggio di entrare nel Nautilus, fare i fighi, i disinvolti, insomma tutti l'abbiamo fatto questo. Ma questo Nautilus è veramente Facebook, perché sapevano chi incontravano, quando, dove e questo rendeva anche la scadenza della settimana... scusate, tu due volte a settimana ci potevi andare? Allora, io andavo tendenzialmente quando riuscivo, nel senso che a un certo punto con i miei genitori ho proprio concordato il due sabati al mese, quindi un sabato sì, un sabato no, e a volte ci andavo la domenica senza dirlo. Ecco, vabbè, è un classico. Quindi facevo la doppietta. Quindi quei due sabati erano tutti organizzati prima nella piazza del paese, al telefono, con le amiche, perché si doveva arrivare lì e doveva essere tutto come ci si immaginava, come sui diari si scriveva. Io non vedo l'ora di incontrare, ora poi parleremo di tutta una serie di personaggi, siamo una soppopera, perché poi leggendo il libro tutti affezioni a questo. Ma che fine ha fatto Miki? Che fine ha fatto Tizio? E quindi arrivavi a questo Nautilus e ognuno ha il suo Nautilus nella vita. Io ho anche degli amici che non sono mai stati a ballare, non sono mai entrato in una discoteca, infatti oggi sono depressi, drogati, ma perché secondo me nella vita ci vuole un Nautilus, ci vuole uno sfogo, poi ora a parte gli scherzi, se non è una discoteca, un club, un pub, però il luogo dove tu vai e metti in mostra quello che stai diventando, anche cercando di capire se va bene quello che fai, perché è inutile negare che si guarda la reazione degli altri. Ecco questo Nautilus che ha una storia pazzesca, a me piace molto il finale del Nautilus, è stato chiuso perché il proprietario ha ammazzato qualcuno. No, 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 c'è stata una sparatoria all'interno del locale. Che io trovo meraviglioso, nemmeno nel Tennessee succede questo, però questo locale, nonostante fosse un locale grosso, grande, dove succede di tutto, era un po' come una chioccia, cioè finché erano là dentro andava tutto bene. Come ci sei arrivata? Perché la prima volta che si arriva in un locale, ragazzina, giovane, e vedi tutto quello che sarà poi il tuo futuro, come ci sei arrivata, impaurita, incuriosita, entusiasta? Allora, anche qui è tutto molto legato a mio fratello maggiore, nel senso che il libro parte con un cuore spezzato legato a una storia di un anno appena finita. Questa storia di un anno appena finita era una relazione che io avevo con un ragazzo di sei anni più di me, quindi anche lui a militare, col quale effettivamente ero già stata al Nautilus una volta, ma non avevo conservato grandi ricordi. Mi lascio con questo ragazzo e sento mio fratello che stasera va dal Nautilus e venerdì va dal Nautilus e sabato va dal Nautilus, quindi c'era questa attesa incredibile di cosa ci fosse lì dentro, che gli piace così tanto. Poi io vedevo tutta la preparazione, cioè comunque parliamo di anni in cui, sicuramente anche ai ragazzi di oggi succede, presumo, di passare il tempo in camera a prepararsi, però parliamo di anni in cui, non so, nel caso di mio fratello per esempio era appassionato di hard rock e quindi mi ricordo c'è stata un'occasione in cui era andato con il suo amico a Milano si erano comprati dei, quelli che ai tempi si chiamavano i pantagets, che erano di, no, pitonati, da, in questo negozio che si chiamava Piragino, che non so se esiste ancora, comunque erano, diciamo, gli antesignani dei leggings, no? Quindi erano questi pantagets leggermente a zampa, perché loro mettevano solo stivali a punta da cowboy, ma allora erano vestiti come Motley Crue. Certo. Cioè, era proprio... Il riferimento era quello. Così. E quindi io vedevo tutta questa preparazione, questi che tornavano con questi vestiti e si vestivano tutti uguali. Cioè, è ovvio che ti chiedi, mamma mia, ma lì dentro ma cosa succede? Ma anch'io ci voglio andare a vedere, no? E così è nato lì. E ti ha deluso la prima volta che ci sei andata? Era come ti aspettavi, sei entrata ed era come pensavi? No, è stato incredibile. Perché era un posto... Cioè, chi l'ha pensato nel massimo del bene è un pazzo. Cioè, questo locale era enorme. Provincia di Varese, quindi esattamente a metà, diciamo, vicinissimo a Malpensa, all'aeroporto di Malpensa. Già il parcheggio era fuori misura. Che lì partiva tutto nei locali, partiva tutto dal parcheggio. Sempre lì ci si vedeva, c'era la macchina di tizio, la macchina di caio. Entravi già, riconoscevi, lasciavi il giubbotto in macchina, speravi che non ti distruggessero l'unotto per rubartela. Per non pagare il guardaroba. Esatto, quindi entravi d'inverno al gelo in canottiera praticamente. E questo nautilus era incredibile. Cioè, entravi, tendenzialmente c'era una coda pazzesca per entrare. E già questo ti faceva montare, no, la voglia di entrare. Quindi entravi, stavi lì con la coda e sentivi sto rumore che arrivava in lontananza. Poi dipendeva da che parte entravi. Cioè, tre sale. Essendo gigante, ogni ingresso ti portava in un punto diverso, no? Ricordi quanto costava l'ingresso? Costava 18.000 lire. Non pochissimo. Non poco, però dai, 18.000, tre sale. 18.000 lire il sabato, un po' meno il venerdì, a volte riuscivi a entrare gratis. Perché se andavi il sabato ti davano il bigliettino omaggio per andare gratis al giovedì. Sempre, sempre. La domenica meno perché era per gli studenti che notoriamente erano più in difficoltà, insomma. E con le navette anche. La domenica arrivavi in stazione Gallarate, c'era la navetta gratuita che ti portava e poi ti riconsegnava in stazione al ritorno. Mentre il sabato sera, ragazzi, cioè le sbatte per riuscire ad arrivarci. Infatti c'era sempre i genitori delle amiche, ci si organizzava, leggo, per andare. Che però spesso poi non ti riprendevano perché facevate tardi, stavate al circolino più del dovuto. Quindi il fatto di essere popolari all'interno di questa discoteca serviva perché poi trovavi sempre qualcuno del tuo paese. Perché stiamo parlando della provincia che da questo punto di vista è una facilitazione perché conosci tutti e bene o male in qualche modo a casa ritorni. Ma veniamo ai personaggi ed interpreti. Cioè si legge praticamente i ragazzi che piacevano a lei, che erano uno sempre più grandi che un altro classico e tutte le immagini, questo Michi, Antonello, ci sono dei nomi che tu dici ma devono essere pazzeschi e anche molto gentili. Cioè io non so se era il tuo immaginario o erano veramente così. Perché sono ragazzi, gentlemen, che quando una ragazzina più giovane era chiaramente innamorata, prendeva delle cotte incredibili, però loro, un po' perché amici del fratello, un po' perché si rendevano conto che erano le tue prime esperienze, erano molto gentili e educati. Sì, secondo me questo è un aspetto culturale molto bello di quegli anni, nel senso che è la stessa ragione per cui io sono tornata a casa un milione di volte da quel locale con degli sconosciuti. Cioè, un po' perché eravamo incoscienti, ma io non ricordo, io sono una persona paranoicissima e non ricordo una sera in cui mi son detta, no però, non mi fido, no però, cioè, non c'era questa sensazione di pericolo, ma perché effettivamente forse un po' eravamo anche noi brave, tra amiche, a misurare le persone effettivamente con cui poi avevamo a che fare. Ma non credo, perché a volte quelli che si vengono meglio sono i peggio. E perché era un altro periodo, cioè non esisteva la droga dello stupro, per esempio. Per esempio. E ancora oggi, adesso non voglio svelare un... però per esempio uno di questi personaggi del libro mi ha detto, guarda, io sinceramente un pensierino sui di te ce l'ho fatto fin dall'inizio, però eri giovane, eri così... No, voglio sapere chi, Michi? Sì. Michi è il mio preferito. Eh, perché è buono. È buono, è bello, è gentile, ogni tanto ombroso, non si capisce che cos'ha, fa il figo, si mette nel salottino rialzato della discoteca, che sa che tutti lo guardano, è un personaggio bello. Ed è rimasto così. È rimasto così, nel senso che lui, tra l'altro alcuni piccoli dettagli nel libro li ho aggiunti grazie ai suoi racconti, ma anche di conversazioni. Nel senso che lui mi diceva, no, guarda che quella volta lì tu mi hai detto così, poi tu ho detto così, poi tutto. Ah, si ricordava tutto? Ma è sempre bello? Dimmi come mi hai detto. È un cesso, perché è un classico. Allora, è piacente? Bugiarda. Lo guardo con altri occhi. Eh certo, bugiarda. È come quando vai alle scene dei compagni di scuola e trovi gente, ma tu sei quello per cui ho perso la testa a scuola e lo guardi, dice va. Però questo Michi è rimasto, Aldi Laura, a parte gli scherzi della bellezza, una bella persona che è ancora frequenti. Cioè, meglio che frequenti, che puoi vedere, puoi frequentare. Allora, siamo rimasti in contatto nel senso che quando era nata la primissima rubrica in onda, vabbè, eravamo già amici su Facebook, quindi subito mi aveva scritto dicendo, no, ma stai parlando di noi. Ed ecco, una cosa super curiosa è che loro non hanno mai detto ai loro amici e alle loro mogli di essere i protagonisti. Come mai? Non lo so, è inconcepibile per me questa cosa. Perché ci sono dei gesti, c'è un gesto che è la fine di una puntata e poi c'è scritto, avete visto nel Netflix, sta partendo il prossimo, quando lui si abbraccia da dietro, no? Che è una roba tenerissima, se pensi, sei in una discoteca, con la musica a palla, uno si immagina delle robe tremende e invece ci sono dei gesti tenerissimi e timidissimi. Sì, sì. Infatti io più volte ho detto, ma scusa, ma perché? Lui mi ha detto, è una cosa intima mia, mi piace che sia mia e ne parla col suo amico. Perché tra loro due, perché i grandi protagonisti di questa storia sono due migliori amici. Antonello era il suo amico. Fabri e Michi. Ah, Fabri, Fabri, giusto. Giusto, c'è anche Fabri, avevo dimenticato. E tra di loro effettivamente, subito, no? Si dicono, ma ti ricordi? Si sono confrontati, però hanno deciso di mantenere un segreto con le loro... Più che segreto, è una roba... Sì, sì. È loro, è una roba che non le riguarda, non capirebbero. Sì, perché segreto dà una concezione un po' strana. Sì, è come se avessero deciso che è una cosa... Un club segreto. Sì, forse quella tenerezza di cui parlavi fa parte di questo decidere di accarezzare un pezzo del proprio passato tenendolo per sé. Anche perché il mondo è cambiato, quindi magari viene visto in maniera diversa. Dicevo prima che la cosa che nel libro fa proprio la differenza è il cambio degli uomini che prima avevano tutte queste creste, eccetera. A un certo punto arrivano tutti con i capelli corti e che comunque li fa più belli ancora agli occhi di Fosca. Ma perché fanno questo? Perché partono per il fantomatico servizio militare. E tutti, è come se partissero per la guerra in Vietnam, perché dicono, eh, ma tu quando tornerò mi scriverai... C'è la bellezza delle cartoline, che ti scrivono le cartoline, che tu a casa ricevevi le cartoline. È una pagina per quelli della mia età, della mia generazione, più che della mia età. È bellissima che oggi telefonini, messaggini, ma non ha lo stesso impatto. Cioè del gesto, che è un gesto d'amore, di andare da un tabaccaio, prendere la cartolina, scegliere, spedire la cartolina. Oggi, per esempio, dal tabaccaio non trovi nemmeno i francobolli, devi andare all'ufficio postale. E spedire da dei posti orribili, dove si faceva militare, delle cartoline con tipo la piazza principale, orribile, ma con delle frasi che per te erano dichiarazioni d'amore, più di dichiarazioni d'amore. Certo, sì, sì. Beh, ce n'è una in particolare che mi era stata promessa, nel senso che a un certo punto questa coppia di amici a capodanno se ne va in montagna. Quindi io disperata, perché che cosa vado a fare al Nautilus? Che questi qua non ci sono, no? Che sono via in montagna. Chissà cosa faranno in montagna poi, no? E dico, vabbè, mandatemi una cartolina. Oh, l'hanno fatto veramente. Cioè, per me è stato veramente sorprendente il fatto che, sai, uno dice... Lo faccio e poi non lo fai. Sì, cioè, veramente, perché poi dopo quello che c'è nel mondo di una ragazzina, che cos'è? Allora mi pensa, allora si è tenuto l'indirizzo da parte, cioè... Allora sono amica. Ti dà... Certo, un valore. Eh, ti dà un gran materiale su cui vi fantasticare, no? Poi con tutto il tempo libero che c'hai a quell'età? Allora, poi c'è la scuola, un'altra cosa bella della scuola. Ovviamente lei non voleva andare a scuola, non mi fregava niente. Anzi, il fatto che ci fosse la scuola era una sorta di disturbo alla sua vita. Vabbè, ci vado, però non mi comprenderai scato. I genitori invece, soprattutto la madre, dicono, bella, devi studiare. E questa cosa lei la faceva infuriare, come un po' tutti noi, non tutti, insomma, ma un po' tutti. E fa capire che comunque il suo impegno in quel momento era la scuola, ma era anche il suo ostacolo a quella vita. Lei lo viveva come dire, la mia vita è al Nautilus, la mia ambasciata è al Nautilus. Tutto il resto è di contorno, dalla piazza dove ci si trovava per cercare quelli che non riuscivi a sentire, perché poi la grande differenza era che non c'era il telefonino. E quindi tu aspettavi le telefonate o a casa, al fisso, oppure ti dovevi buttare in giro e cercare di vedere queste persone. Quando è che hai capito che le cose cambiavano, che tu non avevi più bisogno di cercare, ma eri cercata? Allora, io ho avuto sempre la grande fortuna di avere delle amicizie molto profonde, nel senso che un'altra cosa che c'è tantissimo, secondo me, dentro questa storia è il legame con le mie amiche. Una in particolare che ancora oggi è una delle mie migliori amiche. Ed erano anche loro più grandi di me, nel senso che io avevo 15 anni e loro ne avevano 18. E quindi io vivevo come loro. Devo riconoscere ai miei genitori che io non ho mai avuto una famiglia particolarmente supportiva, nel senso che forse non si usava neanche. Cioè, sono anche cambiati degli aspetti culturali, nello stare con i figli, nell'accarezzare un po' le loro capacità, le loro passioni. Però è anche vero che non ho mai avuto una famiglia ostacolante. Cioè, io tutto quello che volevo fare l'ho sempre fatto, a patto che la pagella fosse ok. Diciamo che il tema grosso della mia lotta contro la scuola, contro il dovere andare a scuola, era legato al fatto che io non ho potuto fare la scuola che avrei voluto scegliere. Ecco, questo è un tema che all'epoca hanno vissuto in tanti. Sì, perché c'erano tutti questi pregiudizi legati al mondo del liceo. Allora, non so se funzionava così dappertutto. Nelle nostre zone, comunque nella nostra famiglia, c'era molto questa cosa del però se non fai il liceo, poi dove vai? Poi cosa fai? Farai fatica? Le altre scuole non sono valorizzanti? Ma al punto che, per esempio, mio fratello piccolo avrebbe voluto fare il liceo artistico, che comunque c'è scritto liceo artistico prima, e non gliel'hanno fatto fare. Cioè, io dopo le medie volevo fare, a Varese c'era questa scuola che si chiamavano Magistrali, a indirizzo socio-psicopedagogico. Io dopo le superiori ho fatto psicologia, e poi ho fatto la scuola di psicoterapia, quindi evidentemente a 13 anni sapevo qual era la cosa che mi acchiappava, no? Però mi hanno costretta a fare questo fantomatico liceo classico, e quindi l'ho vissuto male dal giorno zero. Poi non mi hanno mai bocciata. Il grande drama dell'epoca era che facevi una scuola che non volevi fare e la facevi male. Sì, non comprendendola, nel senso che ad oggi io a un certo punto da adulta mi sono ricomprata un libro di letteratura greca, perché io so che quello in mezzo a cui sono passata avrebbe potuto lasciarmi molto di più se io fossi stata brava e predisposta a prenderlo. Sinceramente in quegli anni stavo facendo delle cose troppo divertenti per concentrarmi sulla scuola. Assolutamente, era tempo perso, diciamo. E tu il tempo lo dedicavi a te stessa, giustamente a capire chi eri, e lo si capisce spesso guardando gli altri, e la musica era un po', oltre che la colonna sonora, anche la traduzione di quello che tu volevi essere e quello che volevi diventare. Cioè la musica diceva o faceva quello che tu dicevi, ecco io voglio essere quello, voglio fare quello. E a proposito, a questo punto direi che è il momento di dare la parola al nostro regista. Direi che è il momento di far salire a bordo di questo libro Rebecca Pagani e Davide Pelliccioni che vengono dall'Accademia Arte 2.0 che hanno sbirciato un po' tra le tue pagine, tra i tuoi podcast fosca e hanno scelto due brani per accompagnare questa serata e lascio a loro. I heard you say At least not today Rebecca Pagani e Davide Pelliccioni Fosca se vuoi disannunciare Don't Look In Anger Degli Oasis? Bravissimi, siete stati bravissimi. Io volevo fare una domanda a Rebecca, volevo chiederti quanti anni hai? 18 18, ti faccio questa domanda non a caso, guardando la copertina del libro del quale stiamo parlando, ti dice qualcosa quell'oggetto? Sì, è il lettore CD, lettore cassetta, videocassetta Mi chiamate un taxi, grazie vado, un oggetto vecchio. No, 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 so cos'è, non mi ricordo... Eh, perché? Grazie, poi potete andare... Grazie, un applauso dopo tornare a cantare l'altra canzone. Tornerete, tornerete poi al finale della presentazione, intanto grazie. Sì, nonna lo sa cos'è, lo sa. Lo sa, lo sa, la cosa, una cosa molto particolare quando ho rivisto questa copertina mi è tornato in mente il diverso rapporto con la furizione della musica che abbiamo noi e che hanno le nuove generazioni che poi è anche il rapporto che abbiamo con la lettura, no? Noi adesso abbiamo in realtà in tasca a disposizione tutti i libri del mondo ma anche tutta la musica del mondo e noi veniamo invece da un'infanzia in fausta passata a stare con il Walkman, a registrare con il Walkman accanto alla radio quando beccavi il pezzo che ti piaceva e poi te lo riascoltati. Mancava sempre il primo pezzettino. Mancava sempre il primo pezzettino e ti sentivi questa cosa, attenzione poi magari il nastro in realtà era settato verso la fine, mi dicevi la metà e niente, quindi siete molto fortunati. Però c'è da dire una cosa, lui è il collegamento perché uno che suona la chitarra, l'oesis alla chitarra è il collegamento tra noi che magari suonavamo Battisti e lui che suona l'oesis comunque è collegato. Tant'è vero che sentendo la canzone, come direbbe Riccardo Fogli, ed è malinconia, nel senso subito, anzi più che malinconia è nostalgia, canaglia a questo punto, altra citazione. Quando hai scritto il libro e l'hai riletto oppure ancora prima rileggendoti le smemorande da cui hai preso il materiale, è partito l'effetto nostalgia? Allora, prima mi è venuta in mente un aspetto tecnico di quando si registrava sulla cassetta, che dicevo sempre, ma guarda questi speaker che parlano sull'intro della canzone, ma lo facevano apposta, per non farti registrare. Non volevano si registrasse, uno, e poi perché volevano rimanere nelle cassette, c'era anche quello, no? Ah, ecco. Quindi quello che diceva con il play e il rack insieme, quelli più fortunati, perché poi a volte il premere e la cassetta si rompeva, quindi con la penna tornavi indietro, poi i mix, facevi mix. Però è vero, c'erano maledizioni a DJ che parlavano fino all'intro, dovete sapere, in radio, sono quei secondi della canzone prima che il cantante inizi a cantare, dove si lancia la canzone e in regia ti fanno il segno e poi devi tacere. All'epoca si usava ancora e questo faceva sì che le registrazioni fatte in casa, c'era sempre la voce del DJ che faceva cose che poi erano tutti uguali, insomma. È vero, è vero. Ma torniamo alla nostalgia canaglia. Allora, c'è un piccolo antefatto, nel senso che io, avendo sempre scritto molto e avendo scritto tanti diari, un po' come dicevi effettivamente all'inizio, ho usato, prima di andare in analisi, ho usato tantissimo le confessioni al diario come un analista antesignano, diciamo. E mi capitava nei momenti magari più di cambiamento, in cui mi sentivo più infelice, in cui le cose non mi tornavano, non capivo bene che persona stessi diventando. Insomma, nei periodi un po' di crisi, fondamentalmente, mi capitava di andare a riaprire le mie vecchie pagine dei diari e provare una nostalgia incredibile di quel passato, no? Quindi, rileggendo, dicevo, ah, però, guarda, come si stava bene prima, come ero, è vero, ero tormentata, però comunque ero più felice di adesso. Quindi, questa nostalgia io l'ho sempre provata. Nel momento in cui mi sono messa a rielaborare questo materiale e ormai tra la rubrica iniziale, il podcast e oggi sono passati quasi tre anni. Quindi, andando a rileggerlo, a riscriverlo, a digitalizzarlo, a intervenire, a stagliuzzare, devo dire che man mano la nostalgia si è placata, nel senso che io oggi rileggo queste pagine, le rileggo con piacere, sento che ovviamente è la mia storia, ma non ho più quell'emozione forte, cioè non ho più quel quanto vorrei essere ancora lì, quanto vorrei avere ancora 15 anni. Ti allontani, quello succede quando scrivi qualunque libro, via via ti allontani i personaggi e poi quando viene pubblicato diventa di chi lo legge, che ti fa scoprire delle cose, e tu dici, ma io ho scritto quello? E quindi questo in modo particolare, perché la nostalgia era dietro l'angolo. Sì, poi io di mio sono sempre stata una abbastanza nostalgica, nel senso che, faccio un piccolo esempio, a un certo punto, quando ancora tra i miei le cose andavano bene, hanno ristrutturato la casa. E per dire, noi all'ingresso avevamo dei gradini che portavano alla cucina, quindi diciamo, per esempio c'era l'ingresso col ghiaino, dei gradini che accedevano alla cucina. E io da piccola giocavo sempre intorno a questi gradini, no? A un certo punto hanno ristrutturato la casa, hanno costruito una bellissima veranda al posto di questi gradini. Oggettivamente è bellissima, ma quei gradini lì per me sono impagati. E a un certo punto mia madre ha tirato fuori una Polaroid, che non so da dove si è uscita, di quei gradini. E mi ha detto, io lo so che tu pensi sempre a quei gradini. Ma che bello! Ma questo per dire, sono sempre stata una che comunque andava a rimescolare nel passato, no? Ti volevo chiedere proprio questo, hai parlato di foto. Ti è mai venuto in mente di aggiungere delle foto a questo racconto? Cioè di utilizzare delle tue foto per in qualche modo arredare, anche se hai spiegato all'inizio che addirittura hai cambiato i nomi, per non mettere in mezzo altre persone, magari forse il problema era che c'era persone che non avresti dovuto chiedere il permesso. Però la foto, secondo te, poteva essere un di più? Allora, non ci ho pensato, ma perché? Allora, io ogni tanto mi portavo dietro una macchinetta fotografica, ma ovviamente non c'era la quantità di... non eravamo così prolifici... prolifici? Sì, prolifici di fotografie come quanto lo siamo oggi. Cioè i tempi le fotografie erano quasi... Un evento! Cioè o in famiglia avevi qualcuno molto appassionato, e nel mio caso io ho una zia che ha sempre fatto una marea di foto... Diciamo non è proprio una fotografa. No. Non vogliamo tanto bene, ma insomma... Quindi, diciamo, negli eventi proprio, non so, la cresima, la comunione, lei c'era, però nella quotidianità non era così in uso scattare, e quindi non ne ho neanche molte. C'erano delle foto anche al Nautilus? Mi ricordo, ad un certo punto c'erano queste foto di gruppo, ma venivano al buio? Allora, ad un certo punto una sera ero andata forse con una Kodak Fan, con una macchina prestata, e sono venute tutte malissime. Quindi anche lì, no? Non ce l'hai ancora? Sì, una ce l'ho appesa al frigo. Ma dai. Sì, di Michi e Fabri, che si abbracciano. Ebbene, non gliela far vedere, perché si vedono come erano e come sono. Senti, dei due anni raccontati in questo libro, c'è una giornata o un evento che vorresti rivivere? Allora... Distinto direi, più che una giornata... Sì, un evento, nel senso che, essendo un libro che è vero che tende al concetto del come si arriva alla prima volta, poi non si sa se arriverà davvero o no, però qui dentro c'è un grande tema di esplorazione del corpo, esplorazione delle relazioni, arrivare fino a questa anelata prima volta, no? Dentro qui ci sono tante prime volte, però, quindi, come abbiamo detto, la prima volta nel locale, la prima volta che litighi con un'amica perché c'è di mezzo uno, la prima volta che bevi troppo e stai male, e c'è anche la prima vacanza. Allora, forse la cosa che rifarei è la prima vacanza da sola con le mie amiche. Dove siete andate? A Riccione. Ma va? E andò tutto come doveva andare? Sì, a parte la faccenda della Digus. Appunto, lì volevo arrivare. Spiegacela. Allora, noi non siamo mai state delle super consumatrici di cannabis, però un po' come tutto quello che succede qua dentro. È la prima volta. Sì, c'era una naturalezza verso le cose, per cui di tanto qualche canna ce la fumavamo. Facciamo questo primo viaggio, vuoi non portarti via 10.000 lire di fumo? che ai tempi... Cioè, 10.000 lire di fumo saranno due canne, no? Allora, eravamo in sei, per cinque giorni 10.000 lire di fumo ci sembrava. E siamo così sceme, che la prima... Un minorenne, eh, ricordiamoci. Io avevo, sì, 15 anni. La carta d'identità celeste. Sì, quella azzurra, no? Neanche quella dei semi adulti, no? La carta d'identità è proprio quella che ti danno quando vai in gita con le medie la prima volta. Che se ti perdi, almeno, sanno chi sei. Praticamente, a un certo punto, belle belle, ci fumiamo questo spinello in sei, quindi un tiro a testa, in piazzale ceccarini. Cioè, che è come dire in piazza Duomo, come dire davanti al colosseo. Riservate, insomma. Protette, insomma. Ma a un certo punto si avvicina a sto tizio, ma io me lo ricorderò per sempre. Cioè, si avvicina a sto tizio, mi fa... È buona, almeno? Sì, vuoi fare un tiro? Gli faccio. Cioè, non l'ha presa con ironia. Mi ha tirato fuori il distintivo, perché era in borghese. Mi ha tirato fuori il distintivo, mi ha detto, dico... Ed è subito un altro mondo. Ed è subito un altro mondo, sì. Però, comunque, poi è andato tutto bene, non mi hanno arrestata. Però è bellissimo che tu vada a dire, vuoi fare un tiro. Sì, ero generosa. Molto educata. Educata. Ma che stasera buona. Senti, chiaramente non raccontiamo come finisce il libro, perché secondo me è aperto anche a un secondo libro. Altre smemorande sono lì in attesa. Io credo anche potrebbe esserci un secondo podcast. Chissà. A che punto siamo. Chissà, chissà, chissà. Non si sa. Di materiale ce n'è. Ce n'è. E anche per un secondo libro e perché no, anche per un film. Io ce lo vedo un film perché comunque, ripeto, è un po' la storia di tutti. ognuno ci mette del suo, la differenza d'età, di città, di gusti musicali. Però c'è del materiale. Allora, devo dire, questo è proprio, sognando in grandissimo, se questo succedesse, io vorrei fare una sola cosa che è curare i costumi. Cioè, ci terrai tantissimo. Beh, lo metti nel contratto. Avvisiamo subito se c'è qualche produttore. La Fosca vuole curare i costumi. Sì, e compro tutte le cose all'anno 90 su Vinted. Ah, vedi? E certo. No, perché c'è un mondo del Vinted, dei negozi di Vinted. Cioè, c'è un mondo dove queste cose sono, le trovi. Io sono ancora oggi affascinata da tutto quello che mi ricorda fisicamente quel periodo. Beh, certo. L'abbigliamento era al di là dei pantagets. Insomma, era un periodo in cui i look erano molto definiti. Poi la moda, ci sono i cicli, i ricicli storici, ma insomma, ogni decade ha il suo... Tu qual è il tuo... Dovessi vestirti adesso per una foto che ti ritrai prima di uscire per andare al Nautilus? Cosa ti metteresti? Beh, di fatto io su un po' è di Dottor Martins, dei Levis 501 e un chiodo anni 80. E quindi la domanda... Non è cambiato niente. È perfetto. Quindi la domanda che ti volevo fare fu una domanda che mi fece e colgo l'occasione per salutarlo, un giornalista, Maurizio Costanzo, che è mancato oggi, proprio a cui farei un applauso, perché veramente è stato un grande giornalista, indipendentemente da... Cosa è successo? Alla prima volta che io andai al Costanzo Show mi chiese ma tu, e io lo chiedo a te, ma tu sei diventata quello che volevi diventare? Sei felice di quello che sei? Sembra più Marzullo, ma in realtà era Costanzo. Allora, io non mi sono neanche data il permesso di poter fantasticare su quello che sarebbe stata la mia vita oggi. Nel senso che io da ragazzina di provincia di Varese ascoltavo i programmi della radio e dicevo ma dove voglio andare io che sono nata a Castronno in provincia di Varese, ma quanto sono sfigata che non sono nata a Milano. Cavoli, e oggi sto lavorando con le persone che ascoltavo da ragazzina, quindi cavoli, sì, sono felicissima. Che bello, facciamo un applauso a Fosca che il coraggio di dire di essere felici e come dico io sempre e soprattutto per le persone della provincia ci vuole coraggio per essere felici. Tu hai avuto il coraggio di affrontare quello che c'era, quello che succedeva, cioè non ti sei mai tirata indietro? No, è vero, devo anche dire che ho lavorato tantissimo su di me, cioè adesso non è per, io sono contenta che il tema della psicanalisi e della psicoterapia sia molto sdoganato oggi, perché... Lo dici a me, io gli ho comprato una casa, l'analista, piano piano. Cioè io sono certa che senza i miei primi quattro anni del mio percorso di psicoterapia e di scuola di psicoterapia dove ho studiato ma dove sono stata anche paziente e l'analisi che ho tornato a fare anni dopo non sarei sicuramente dove sono oggi ma perché non avrei dato spazio veramente ai miei sogni con tutte le difficoltà nel senso che nessuna vita, la vita di nessuno credo sia facile, non sai mai cosa succede o cosa è successo nelle vite degli altri però devo dire che se uno ha entusiasmo e ci crede io non dico che ci arrivi per forza perché non è così si devono incrociare anche una serie di astri e anche un po' però perlomeno non hai i rimpianti no no assolutamente importante importante allora ci sono domande dalla regia vuoi fare una domanda prima che si faccia cantare l'ultima canzone e poi la nostra Fosca sarà di là a firmare tutti i libri che vorrete c'è una meravigliosa scrivania per il firma una sala pazzesca tutta a vetri con tutte abbiamo messo tutte le lucine tutto è pazzesca questa sala è meravigliosa tutto sorfuso ultima camera o sala da pranzo esattamente hai domande? io no non ho domande sono molto contenta di avere ospiti che hanno affrontato percorsi di analisi è molto importante avere persone che vabbè effettivamente questo ultimo tema che stavate affrontando è molto importante ne parlavo anche l'altro giorno molto semplicemente con dei miei amici di come si stia superando questo scoglio questa è una cosa che non mi manca degli anni 90 come non mi manca l'andare indietro per cercare i brani e volevo chiederti non so se è una domanda Fabio che tu hai già fatto perché ho fatto un po' avanti e indietro per accogliere gli ospiti che stanno arrivando quale brano associ a questo libro non uno cosa c'è dentro quella cassetta se dovessi dire tre pezzi forse ci associo più dei generi nel senso che allora io a un certo punto ho anche esplorato un altro pezzo di mondo e anche nel libro c'è nel senso che io sono nata ascoltando un sacco di musica rock perché appunto mio fratello ascoltava musica rock c'era questa radiolina di provincia che io praticamente scanalavo tra questa radiolina di provincia che era Radio Lupo Solitario e le grandi radio che questa Radio Lupo Solitario era solo musica rock quindi devo dire quel mondo a me mi ha sempre affascinato a un certo punto ho iniziato a frequentare altre persone del liceo anche lì sempre un po' nella ricerca dell'identità che erano invece più spostate sul mondo della musica un po' da discoteca che non mi è mai entrata nel senso quindi se devo dire cosa c'è lì dentro sicuramente c'è del rock del rock allora io consiglio a tutti ma veramente non perché è un'amica questo c'era una volta ed era la prima perché un po' riguarda tutti ognuno di noi in una pagina si ritrova e non è l'effetto malinconia o nostalgia come diceva lei ma l'effetto vedere cosa eravamo per capire cosa siamo e se vogliamo essere quello che siamo Fosca Donati grazie grazie Fabio grazie a tutti Fabio Canino e adesso Rebecca grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti